Benvenuti o bentornati a un nuovo video, oggi siamo alla terza puntata del nostro appuntamento bisettimanale con il creator di Magic, o chi è nel mondo di Magic. Oggi siamo con... Ciao Simone, Rimarchi, a ghiera. Io vecchio, vecchio su YouTube, vecchio di età, stavo dicendo di estati, ma era pure un modo troppo arcaico per dirlo, però insomma, ecco qua, dai. Io volevo parlare con te. Non devo fare tutta la mia presentazione, perché sennò ci mettiamo tutta mezz'ora. No, 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 tanto sappiamo tutti chi sei e cosa fai. Alla voce del Magic competitivo in Italia, perché ormai sei il caster, ormai ufficiale dei trattori mondiali da tanto tempo. Bello esserlo, sì, è una cosa che mi inorgoglisce molto. Ti chiedo questa cosa qua, perché ne parlavo con un altro creator di un altro gioco, e secondo me è un tema, no? Sai anche tu che qualche tempo fa Luca Ceribelli ha vinto i mondiali di Pokémon VGC, che può essere in contatto con me eSport o no, ma indipendentemente da quello. E sai anche tu... Insomma, lo sai come la penso. Sì, esatto. Andiamo per forza a dare un nome alle cose, come al Death Metal, che non si sa se è trash, non si sa se è black. I cazzi, che ti piacciono bene. Esatto. È un gioco, ha vinto, bravo, bravissimo, e sai bene come è stato accolto dall'opinione pubblica, no? Perché la notizia è andata oltre alla nicchia, alla bolla, ed è stato accolto in un certo modo. Dall'altra parte, quando Faker l'anno scorso vinse i mondiali dopo sette anni di LOL, lì in Corea si è stato celebrato con la gente in piazza, no? Come se l'Italia avesse vinto i mondiali, notando noi. Chiaramente sono due cose opposte. Chiaramente sono due mondi diversi. Però, cosa ne pensi della cosa? Cioè, cosa è successo? E poi andiamo su Magic. Non credo che, in fondo, debba poi aggiungere troppo altro rispetto a quello che hai detto tu. Stiamo parlando di due universi veramente, completamente diversi nell'intendere questi hobby. hobby retribuiti, esport, giochi, chiamali come ti pare. Visto e considerato che comunque da una parte c'è un'industria dietro che supporta tutto il movimento esport coreano, che poi chiaramente è uno dei più antichi, più forti e più ricchi del mondo. Anzi, il più antico, il più forte, il più ricco del mondo. E dall'altra parte, invece, c'è un paese in cui campi solo se ti piace il pallone. In generale, insomma, gli hobby, diciamo, da geek sono un po' visti. Ma però questo, secondo me, è una frase che lascia il tempo che trova, perché siamo in un periodo storico in cui ormai definirsi geek, mi non piace la parola nerd, quindi non la posso utilizzarla, e fa cool. Quindi, insomma, ci sono pure ragazze che ti cercano se giochi ai Pokémon. Io non credo che poi la vittoria di Luca sia stata poi così mal vista. Di certo c'è la solita retorica italiana, che non è tanto retrograda, ma è più di popolo, che noi siamo, non lo so, almeno sembra, molto invidiosi. Quindi cerchiamo di distruggere come cultura quelli che fanno qualcosa e che vincono. Dobbiamo sempre, per forza, affossarli. Quindi ho più sentito dire, ecco, quello non c'è un cazzo da fare, o hai visto, si vincono 30K senza fare un cazzo, eccetera, anziché dire, guarda, Luca, se i ribelli è uno sfigato che gioca un gioco per sfigati. È sempre sulla retorica del chi diventa famoso lo devo affossare, perché non sono io. Poi quando capita a me, iiii, evviva! Ed è vero, è vero. Secondo me, come dici tu, che non è in sé lui, non è in sé la cosa da geek nerd, come si vuole dire, ma è più proprio la classica invidia, no? Se vince fai bene, o hai sculato, o hai conosci qualche... Cioè, se vuoi entrare in un ginebraio di roba che, insomma, non... ...vanno un video, ma... Tanto di quell'odio verso le OnlyFanser e poi verso, appunto, influencer di tutti... E come al solito, io mi chiedo, ma questa gente, no, che odia in generale, ma non ha capito che esistono OnlyFanser bravi o OnlyFanser cattive, giocatori di Magic bravi, i giocatori di Magic cattivi, l'influencer bravi, a me sembra sempre che ci fermiamo lì, no? All'apparenza del fai quello, sei in un gigantesco calderone dove tutto, 100% merda. Eh, sì, non è proprio possibile. Ci sarà chi fa influencer o youtuber bene, invece chi è effettivamente esecrabile, ti piace questa parola, e va criticato. Beh, io con questo ragazzo, Alessandro Cremascoli, ho citato anche una cosa che vi hai detto tu un po' di tempo fa, in un tuo video di tanto tempo fa, che dicevi che quando eri andato tu al World Cyber Games, no? Non eri abituato a questa accoglienza, no? Verso i atleti, diciamo, no? Io non potevo essere abituato perché venivo dall'Italia e a me non mi sinculava nessuno. Quando sono sceso, non quando sono sceso dall'aereo perché sarebbe comunque, insomma, una bugia, ma quando sono arrivato alla venue con la maglia dell'Italia, a me hanno chiesto gli autografi in fila perché ero il campionato di StarCraft italiano, cioè, lì StarCraft era il gioco più, visto, giocato, importante, dove i pro player erano già una realtà consolidata e Slayer Boxster usciva con le velline, scriveva libri, era una celebrità. Io venivo dall'Italia, che è un paese a cui, ragazzi, non so lo sapete, ma all'estero ci vogliono tutti bene e quindi ero quello, cazzo, Shakira, guarda, e si mettevano, anche ragazze che mi chiedevano, certo che non ero abituato, è stato, cioè, ma anche io, se fossi tornato e mi fossi montato la testa, sarei stato un cretino. Chiunque fosse stato al mio posto avrebbe avuto la stessa identica accoglienza, ok? E in quell'epoca, all'interno dei World Cyber Games, quindi dell'Olimpia dei Videogiochi, cioè del torneo più importante e-sport che c'era all'epoca, fondamentalmente, essendoci delle eliminatorie in tutti i paesi, perché Samsung pagava soldi per far arrivare con l'aereo tutta questa gente da tutto il mondo, eravamo 560 giocatori, io provenienti da 50 nazioni o 48 nazioni, cioè, non è che io avessi poi questo particolare merito, avevo vinto e torno all'italiano, fine, non ero minimamente a livello di un coreano, ma infatti poi l'ho presa. Vabbè, vabbè, e facendo questa intro, volevo parlare un po' adesso di Magic, Magic, sai bene anche tu, che è un gioco bellissimo da giocare, che molto spesso non è bello da vedere, e per quanto si fa tanto un lavoro tuo sul portare la gente a vedere il competitivo, alle persone non interessa tanto, ed è una roba stra, ultra distopica, Perché, no, non distopica, ultra, come si dice, è molto strano, perché io mi sto confrontando in questo periodo con tante persone di tanti altri mondi, e mi dicono tutti, no, come dicevi anche tu, che è una cosa super strana, no, che se tu vedi i giocatori di Magic vanno a un torneo, sono mille, mille paganti, la gente che guarda lo streaming sono in, boh, mille, e mentre in altri giochi anche semplicemente lol, no, che la gente che ci gioca saranno al torneo in 50, però le views sono 10 volte, 100 volte, secondo te il perché, perché c'è questa cosa qua, oltre alla struttura del gioco in sé, no, e poi ti dico la mia su questa cosa qua. Ok, no, allora, non sono solo per esempio, diciamo che io tempo fa scrissi un articolo che fu tra l'altro molto ripreso da tantissime testate, l'ho scritto per Wired, e lo trovo ancora, insomma, parlava della scena competitiva mondiale, soprattutto facendo riferimento a quella italiana, e c'erano un po' le regole per l'e-sport perfetto, non è tanto l'e-sport perfetto, ma, diciamo, quali caratteristiche deve avere un videogioco per diventare un e-sport, tra queste caratteristiche ovviamente c'era il fatto che fosse facile seguire le partite, o comunque gradevole, forza facile non è la parola esatta, gradevole per seguire le partite, e per seguire queste partite ci vogliono più o meno tre caratteristiche, uno è che il gioco deve essere intelleggiato, facciamo subito l'esempio classico con FIFA, IFC, ad oggi, cioè, è normale che c'è un punteggio 0-1 più o meno o in ogni momento tu accendi la partita sai chi è in vantaggio? È evidente, no? 0-1 uno è in vantaggio, l'altro sta perdendo, e quindi è intellegibile sapere, appunto, il punto della partita, e quindi è evidente che questa cosa qui funzioni televisivamente, no? ma poi c'è un'altra caratteristica che deve essere chiaramente appunto divertente da guardare, quindi i tempi devono essere giusti, deve essere un gioco oggi con oggi veloce, no? Perché, voglio dire, già lo stesso calcio, evidentemente, è annoio, no? Vedere il calcio, stiamo parlando lo spettacolo più importante è il pianeta Terra, e su questo non... i numeri dicono questo, no? E oltre ad essere intellegibile e divertente, chiaramente deve avere una certa profondità che sia capace di farlo raccontare chi sta dall'altra parte, che se chiaramente è solo una cosa che, leggi bene, è semplice a guardare, però non è profonda, il gamer in sé non viene, diciamo, non riesce a... Di queste caratteristiche purtroppo Magic ce n'è una sola, cioè il fatto di essere profondo, ti dirò, forse è troppo profondo, ok? Perché, quello che chiaramente è lo strategico, il gioco, la mano, come si devono giocare le carte, come si deve giocare il mulligan, sono roba da libro, cioè, che ci vorrebbe per un solo mazzo, io sono sempre un grande fan dei Discord monotematici dei deck, no? E se pensi a questa cosa, come si sta evolvendo, quindi, questo mercato del Discord monotematico del deck, forse è una cosa che non è vero che esiste solo in Magic, però Magic è molto marcata, no? Perché, per giocare Yagmoth, solo un libro, sì, non ci vogliono quattro partite on the play, on the draw, ci vuole, ah, ma qual è il drop a due meglio che devi fare? dipende, 100.000, problem, quindi, dato che la profondità, ok, c'è, il Magic è intellegibile? No, intanto perché c'è un problema proprio visivo, cioè del fatto che se io accendo uno streaming di Magic cartaceo, perché oggi si fanno poi solo quei cartacei, praticamente non leggo proprio le carte, quindi già, ma ti dirò di più, se uno sta a uno e l'altro sta a 20, sta a vincere quello che sta a uno? sta a vincere quello che ha detto, zero, zero, guarda chiaramente il discorso nato contro nato, no? E ora passiamo all'argomento forse più dibattuto, Magic è divertente da guardare, ragazzi io lo commento ormai da anni con grande successo, sul mio canale ci sono un sacco di gente, facciamo sempre il record italiano dei canali di Magic o quasi, penso di poterlo dire, ma divertente da guardare, allora l'ultimo Pro Tour, cioè, e tu non l'hai visto perché eri lì, a vedere il mirror di Natu non si diverte nessuno, ma manco, nessuno, proprio neanche se gli fa il solletico, ok? Al di là di questo, in generale, i tempi di una partita competitiva di Magic, anche se tu sei il caster più bravo del mondo, non li puoi proprio esaltare perché ci sono delle pause, delle lungaggini e soprattutto un normale fluire della partita che va completamente all'opposto secondo me di dove va il mercato di videogiochi, ok? Cioè, il mercato di videogiochi è partito da Starcraft ed è arrivato a Brawl Stars cent'anni. Magic è partito da Bolt ed è arrivato alle room. Capisci che è roba per gente complicata, no? E che in generale interessa poi a cose complicate e quindi è normale che ci sia questa frattura gigantesca tra chi guarda un torneo di Magic che è solo l'appassionato del competitivo di Magic che, quanto io, te, sono vicino, teco, pensiamo che sia l'unico aspetto di Magic, forse tu non lo pensi più perché infatti poi facendo i reel hai capito benissimo dove va il mercato, stiamo parlando di una percentuale microscopica di tutta l'utenza di Magic, ok? Probabilmente, anzi, sicuramente, una partita di Commander tra quattro, guarda, non dico manco celebrità, ma tra quattro che te la fanno via bene e che quindi discutono sulle giocate rendendo divertente il contenuto è più vista e lo è che va a vedere i numeri su YouTube di tutti quelli che fanno Commander americani, ovviamente, fanno questo format qui e te ne accorgi perché è molto più vista di una partita YouTube di Upro Tour anche quella più spettacolare, ok? E quindi, insomma, io credo, guarda, concludo che poi faccio parlare di S9 e se no, veramente, mi sono rata solo una cosa che di cui io mi sono accorto, no? Allora, League of Legends non ti faccio l'esempio perché io poi lo conosco comunque in maniera diciamo non troppo vicina a livello competitivo non seguo League of Legends però seguo Hunter Strike, seguo Street Fighter, seguo un sacco di altri e un'altra cosa che per essere televisivamente forte un prodotto è che deve essere facile per lo spettatore riconoscere quando qualcuno fa un numero perché il calcio è così importante perché anche se non sai giocare a calcio anche se non ti interessi della profondità del calcio delle regole di che cos'è una diagonale di cos'è una trasmissione lo sai che fare un controllo di tacco è difficile lo sai e lo vedi anche se non ti interessi di Street Fighter probabilmente lo sai che fare un comeback da tanto così di vita a distruggere l'avversario è una cosa di figa è un pezzo hai fatto un pezzo se guardi Counter Strike lo sai che vincere una clutch quando si rimani uno contro tre a livelli competitivi di quel livello è una roba di figa e tutti esalti proprio tutti lo stadio esplode in Magic il pezzo se tu pensi se tu pensi a tutta la storia competitiva di Magic la cosa è uscito fuori dalla storia competitiva di Magic lo facciamo con le visualizzazioni non lo voglio fare facciamolo anche con i ricordi c'è il top deck di Nassif di Lightning Galaxy era di Nassif giusto? ho detto bene? ok Tito è un pezzo è asculato è asculato il pezzo vero se l'è cercata l'ha asculata il pezzo vero è che se l'è cercata l'ha asculata benissimo il pezzo vero è il bluff di Estrat esatto quello incredibile incredibile talmente tanto difficile da comprendere i commentatori non avevano capito nessuno aveva capito dico verità no? vero come fai a rendere televisione una cosa del genere però allora ti dico anche un po' di cose che sono successe perché magari non segui i creator americani adesso che sono più in contatto con loro il capo di Command Cast la direttrice artistica di Command Cast adesso è diventata direttore artistico in Magic cioè l'hanno assunta dentro perché l'hanno portato dentro questa persona qua che riesce a rendere divertente un gioco che da guardare oggettivamente un po' non lo è e ti aggiungo questa cosa qua ti mando anche questa provocazione partendo dal presupposto che sicuramente il competitivo adesso è un po' seguito meno rispetto a prima forse secondo me è un po' sì perché per i numeri che ci sono nel mondo delle piattaforme social cioè se rimanere su quel numero lì vuol dire che è il meno non lo so vabbè però ti dico la provocazione è questa però la partita di Kibler rispetto a che era turno 8 a caso è stata seguita un sacco rispetto alla finale e quindi mi venirebbe da dire ma non è che il problema è lo storytelling perché loro con la Magic Pro League hanno detto eh alla fine non è piaciuto perché la gente vedeva solo la gente editaria è ok ma comunque sia in streaming queste persone qua non facevano più use e loro hanno anche detto eh però tendenzialmente chi è un pro player parla poco interagisce poco e io vi dico Mizzè ma ragazzi ma il giocatore e-sport più famoso del mondo che è Faker non parla cioè non dice una parola non dice la parola e se parla non parla neanche l'inglese cioè eppure ha quella popolarità perché il gioco gli ha creato attorno una costruzione posso correggerti vai dimmi dimmi non è tanto gioco ma il torneo il torneo va bene qui si sta parlando per quanto riguarda League of Legends di una struttura competitiva che ha un torneo di awards estremamente rilevante estremamente rilevante per le persone no per le persone perché lo stadio di Pechino e l'arena di Parigi fold out la gente che urla le canzoni l'evento estremamente rilevante permette anche ai giocatori che non parlano come Faker di diventare famosi perché la gente segue l'evento e quindi seguendo l'evento dà rilevanza a chi ci gioca dentro bene perché chi se ne fa io sto seguendo l'evento poi se un giorno è Faker un altro giorno è questo il Pro Tour di Magic è una roba famosa a livello di evento allora a me mi piacerebbe dire di sì ok troppo non è vero ha una grandissima storia tra l'altro è l'evento competitivo con la storia più longeva che esiste ed è antecedente all'ISP che andrebbero fatto gli applausi e quando la gente copiava da Wizard of the Ghost ce lo scordiamo perché come tu hai detto adesso hanno assunto quelle commoncast Riot Games alla sua fondazione ha fatto ha assunto vagonate di gente da Wizard of the Ghost non so se sapete questa cosa e l'ha fatto perché la struttura competitiva di Magic piaceva molto a quelli di Riot e tant'è l'hanno un minimo replicata una cosa che succede all'interno del mondo Riot Games è che è la stessa casa madre a pagare i pro è una cosa che faceva anche Wizard esatto esatto con la Silver Gold Platinum League poi chiaramente con l'MPL e il suo fallimento adesso non lo fa più guarda un po' quindi insomma è andata al contrario a livello competitivo però rimane il fatto che il Pro Tour ha cambiato nome poi è diventato Medic Invitational e poi è stato su Arena non è un prodotto come i Wars League of Legends non lo è questa è una grande pecca già il fatto che cambiano nome ogni anno è un po' un problema faccio un esempio Wizard mi stai ascoltando? fammi mettiamo al Pro Tour cerimonia d'apertura con che spacca quei più grandi creator fai un showdown dei creator più forti a commander all'inizio per comunque tra un turno e l'altro fai vedere questa gente che ormai ha avuto visibilità e appunto adesso tu devi fare la cosa inversa devi trasmettere la visibilità che hanno i player alla League e devi far diventare il Pro Tour una roba rilevante per le persone e dopo diventerà chiaramente un appuntamento immancabile allora lì potrai fare quello che dici tu c'è il Pro che non parla i cazzi tanto io sto vedendo il Pro Tour e quella volta quel Pro che non parla che fa il pezzetto suo perché è appunto super forte e fa una roba alla estratti io comunque me lo ricordo io credo che sia questo il problema però veramente è tanto complicato sono pure c'è il momento storico fa tanto cioè io non so se questo appunto è il momento storico di guardare della gente che gioca a carto per me sì per me sì anche perché in realtà sta diventando molto più pop di quello che sembra a noi dall'Italia gli Stati Uniti sta uscendo sta diventando molto molto pop incredibilmente pop e forse si sente anche un po' dal lato loro inebriati da questa cosa qua perché magari non si sono stati mai abituati ad essere così pop in maniera così intendo però c'è da dire che anche Pro Tour io quelli che hanno voluto vedere Brian Kibler erano 50.000 60.000 dopo 24 ore e poi insomma tutte le views dell'attopotto non arrivi a quel numero lì comunque c'è gente che vuole vedere qualcuno c'è qualcuno che conosce secondo me prima loro costruivano anche meglio le persone che partecipavano ai awards perché tu anche adesso seguendoli intendo anche adesso che segui questa cosa qua tu ti ricordi quali sono gli stessi LSB Nassif Kibler con i nuovi però perché stanno sempre lì Claudio dai chiaro però aspetta Simon Nielsen non è uno di quelli vecchi me lo ricordo sta sempre lì te credo che me lo ricordo la Via Dominguez è stessa cosa sta sempre lì non è che me lo posso scordare sì però se ti ricordi anche quando Mingu cominciò a esplodere come personaggio che cacchio è primo anno la prima volta che ha fatto il Pro Tour è esploso lui come personaggio e te lo ricordi da allora cioè nel senso lo storytelling è andato peggiorando lo storytelling non è che non è andato peggiorando non c'è più perché prima facevano anche il prodotto in cui presentavano le community nel mondo è andato peggiorando cioè al di là è sicuro che sia azzerato però oddio non ci ho mai fatto caso credo che io quando ho iniziato a vedere Magic diciamo come competitivo osservarlo era il tempo degli Star City ricordi e fondamentalmente il format quello è loro l'hanno solo replicato adesso ci sono più talent credo non me ne vogliate per i americani se vedete che i talent che loro scelgono non siano granché rilevanti nessuno se ne frega un cazzo di ABC che stanno là e probabilmente se il prodotto lo commentassero Kibler quello quell'altro eccetera sai gli costa di più però gli costa tanto di più però vabbè c'è Kibler il creator corner che fa partite contenuti con la gente a caso tipo me però ti dico anche questa cosa qua io a caso il signor Cina Biondo dall'alto delle sue 2.9 milioni di visualizzazioni su Reel allora no però loro vabbè però sai che quello che dicevi tu di mettere dei programmi di contorno eccetera ma i Magic Call lo fanno è che non è trasmesso da nessuna parte è che non è trasmesso da nessuna parte e ce le hanno le cose perché se tu l'hai visto anche tu il dietro di quella roba lì è televisivo cioè le telecamere sono televisive su del main stage tu dici il Pro Tour come ripreso no 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 non solo Pro Tour anche il main stage quello con dove fanno vedere lo spettacolo dei cosplayer command cast che fanno le cose magari ritengono che sia scritto male non lo so sicuramente sono un po' ritengono che non interessa la gente competitiva e forse hanno ragione potrebbero addirittura fare meno views se sporca il prodotto competitivo che mo si attiene su quelle views perché i giocatori competitivi quelli sono e se gli metti una roba che non è competitiva rosicano pure la verità è che commentando il Pro Tour ti posso dire tranquillamente che nonostante loro abbiano fatto passo a tanti pazzeschi da quando hanno ripreso il cartaceo e quindi io sai che ormai commento da quando facevano su Arena no? eh sì da un sacco di tempo e quando facevano Arena facevano in diretta c'erano mille problemi o magari ogni tanto una partita si bloccava quello quell'altro e dovevano aspettare il turno eh c'erano delle belle lungaggini adesso fanno sempre con una finta diretta no? loro fanno giocare si è un'ora differita un'ora differita poi quindi riescono piano piano a recuperare poi quello svantaggio ti passano sempre un contenuto nonostante questo tra una partita e l'altra passa una cazzo di mezz'ora ok? la voglia a fare deck deck con quello se voglio di lasciare il tempo che trova parlare con il desk vedere i filmati i vecchi purtroppo non funziona cioè se la gente è competitiva vuol vedere qualcosa di competitivo allora dagli quello ma daglielo sempre cioè e qui torniamo al discorso del ritmo cioè se tu ti invito a guardare ora tu guardi League of Legends tu guardi Counter Strike ti invito a guardare il prossimo Oblast Pro Series o appunto il prossimo S1 di Counter Strike cioè è proprio una roba studiata per essere televisiva vogliamo dire che i tedeschi sono più forti degli americani non lo so non lo so è vero l'intrattenimento non lo so difficile infatti però non lo so cioè veramente non lo so rimane il fatto che lì cioè hanno la partita e la partita te la trasmettono tutta la partita chiaramente dura di più della partita dei Magic 45 minuti quello che è finisce la partita vai vediamo le azioni principali c'è tutta la mappetta dove loro ti scrivono guarda questo era in questo punto è dedicato a quella gente lì fa dei numeri pazzeschi nonostante appunto comunque sai cosa c'è pure da dire secondo me stiamo parlando di un gioco che è gioco ripeto che noi percepiamo competitivo ma che è altamente casual perché è la loro forza la loro fortuna beati loro così fanno veramente i soldi Counter Strike è l'opposto cioè il casual di Counter Strike quasi non esiste chi ci gioca ci gioca per competere ok League of Legends è l'eccezione perché effettivamente League of Legends è un gioco stra casual che però competitive loro sono riuscati a renderlo ma viene tutto dai wars ti ripeto guarda che il lec non fanno no 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 ma neanche lontanamente ma neanche lontanamente capito quindi il punto è che loro hanno reso i wars un evento allora prendi il magic con un evento ti fai suonare Linkin Park e no Frodo che mette i dischi scusami Elasia però diciamo che anche io non ho apprezzato Elasia Wood che mette la sua musica un po' la fighetta per chiudere ti chiedo un'altra provocazione però il il pro tour diciamo il Mythic Invitational più visto di sempre fu quella cosa che fece un po' un baraccone come dici tu no? con gente famosa di livello talent giusti che fu il Mythic Invitational quello con che ha vinto Bangu quello col premio più grande di sempre ed era su ed era su arena premio più grande di sempre però anche i mondiali non è che sono così piccoli è un milione non è brutto per carità ci mancherebbe però lì uno si portava a casa Bangu è diventato ricco Andre ciao ricco no però insomma si è portato a casa 250.000 solo con un torneo no? perché l'ha vinto non è male formato tra l'altro è un formato di merda per tutti i giocatori terribile terribile ma quello che ti chiedo io ma non è non sarebbe da mettere almeno un pro tour all'anno di arena secondo me non è il punto non è proprio arena non sarebbe più fruibile tutto è sicuramente più intellegibile ma più intellegibile solo e esclusivamente riesci a leggere le carte te l'ho detto il problema non è solo la lettura delle carte la lettura della partita il game non lo leggi manco su arena se non sei proprio dentro dentro e devi essere dentro al formato quindi devi pure sapere in che momento è il formato tra virgolette per leggere una partita di magic perché ancora l'esempio di prima 3 a 20 non è detto che quello ha 20 vincere ma proprio no ok detto questo secondo me due cose una brutta brutta ok c'erano numeri molto lo sai tu lo so io io ho il coraggio di dirlo tu non lo so forse sì non lo so lo sai non lo so non lo so davvero ah ok credo proprio che c'è una specie di come si dice inchiesta che comunque ha fatto vedere che all'inizio loro ma comunque si utilizzavano embedding questo e quell'altro che poi sono tutte cose lecite però che confiano i numeri chiaramente non sta dicendo che wizard ti ha fatto però chiaramente sono ti hanno aiutato a raggiungere dei numeri seconda cosa però era pure la new sensation capito quindi era arena prima volta premio strabiliante medic invitation era la prima volta che si chiama medic invitation erano tutte cose che ti fa pensare a sento puzza di evento dei nine più carina c'era dei nine vabbè dei nine non lo conosciamo io e te no non è vero non lo so secondo me sai cosa Claudio essendo un creator della prima wave lo conosciamo io e te cioè non è misterbista dei nine non sono numeri da cioè al di là del fatto che non è proprio paragonabile per quello che faceva però i numeri che raggiungeva lui a suo tempo sono paragonabili ai numeri di un creator di oggi di un creator famoso quindi no a parte che comunque lo fanno uno su arena eh pro tour no pro tour fanno un come si all'arena championship esatto li streamano sì 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 non li faccio io ma li streamano comunque sì 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 hanno questa viewership pazzesca ma poi c'è il problema del formato cioè capito quante ne sto dicendo è proprio un gioco che a livello televisivo non rende veramente non rende però ti ripeto parte tutto dal divertimento e tu provi stando a guardare una partita di magic stando a guardare una partita di magic si diverte solo e esclusivamente chi è proprio molto molto dentro al competitivo del gioco quindi stai già riducendo tantissimo puoi rendere il gioco più semplice no l'altra cosa è che come fanno chi gioca commander la cosa divertente in quella cosa lì è quando ti gioco la carta che rift esatto ma infatti commander su youtube è partito un po' insordina adesso invece ha preso assolutamente piede ed è la cosa più vista di tutte perché poi se tu ti vedi i loro video e io ogni tanto me li vedo loro lì hanno come obiettivo quello di far uscire su youtube le interazioni sociali quello è quello infatti quello che funziona allora che fai nel produr mi fa uscire l'interazione sociale da simon nils davis dominguez che sono amici sì ma magari loro si stanno pure sul cazzo i giocatori del produr lo sei pure tu fai l'occhietto così però la verità è questa oddio magari puoi essere fai pure più views della gente che si odia e poi si deve affrontare per gioco però capisci bene che secondo me non è un proprio veramente lo dico è un servizio che wizard deve assolutamente continuare a dare perché comunque la fetta competita di magic che c'è esiste è molto intrattenuta da questo tipo di eventi perché voglio dire io lo vedo sull'Italia Claudio mio io senza fare marketing non sulla mia pagina faccio 900 ho fatto 1000 più di 1000 al produr di lord of the rings eccetera la gente vede i figurine che non si vedono cioè non è una roba per quello dico che magari su arena è un po' meglio almeno se quella cosa lì va bene rimane una cosa secondo me una roba che non puoi togliere ok ma fanno bene io infatti fanno con loro a non pensare nella loro testa che possa decollare non può decollare ok ok è destinato a non decollare il competitivo di Magic guardato su Yu non può decollare ok va bene finito va bene ho finito ti ringrazio per essere stato qua con noi per questa testimonianza queste parole Claudio dai ciao io sto bene sto bene dai è bello sempre parlare con Claudio perché è sempre una persona sorridente ti dà al podcast sorride ti dà a giocare sorride questa è una cosa a me piace giocare a Magic io ho smesso perché non sorridevo più all'epoca scusami se dobbiamo fare un hobby per non divertirci è meglio non farlo hai visto quanta gente c'è che lo fa così a voglia a voglia ciao ragazzi ciao a tutti grazie di aver ascoltato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti